Cos'è lo scarico delle infezioni da lievito? Un'infezione da lievito, nota anche come mughetto o candidosi, è in genere accompagnata da una secrezione di infezione da lievito denso e biancastro. Lo scarico di lievito vaginale si trova in genere lungo una vagina infiammata. I sintomi dell'infezione del lievito che si verificano vicino alla bocca sono generalmente accompagnati da macchie bianche intorno alle labbre invece della scarica comune. Il residuo di scarico visibile intorno alla vagina è chiamato candida albicans, che è un fungo che si forma naturalmente. Il fungo è una forma di lievito. Quando si parla di infezioni da lieviti, le persone si riferiscono in genere al tipo sperimentato da circa tre donne su quattro nella loro vita. Descritto come un tipo di vaginite, un'infezione da lievito vaginale include tipicamente una vagina infiammata, dolore locale, prurito e una secrezione di infezione da lievito. È spesso associato a malattie sessualmente trasmissibili, malattie trasmesse sessualmente, anche se tecnicamente non rientra in quell'ombrello. Le donne che non partecipano a atti sessuali sono ancora in grado di essere infette. Infezioni vaginali da lievito e la conseguente secrezione di lievito possono essere contrate attraverso il sesso orale tra le altre cose. È causato, tuttavia, da candida, il fungo reale. Le vagine salutari contengono una quantità proporzionata di candida e batteri. Quando questo equilibrio è distorto, la quantità di lievito inizia rapidamente aumentando. Una donna può sperimentare la secrezione di infezione da lievito dopo una serie di eventi. Quando il corpo di una donna, in particolare la sua vagina, viene introdotto in attività nuove o diverse, reagisce. Attività come la pulizia, l'uso di antibiotici, un drastico cambiamento nella dieta o una varietà di partner sessuali possono causare l'irritazione della zona genitale. La vagina reagisce producendo più lievito, che si traduce in uno scarico denso e simile alla cagliata. Resti di esso possono essere trovati su biancheria intima o carta igienica. Questo scarico è generalmente descritto come simile alla ricotta. Di colore bianco o grigio, la secrezione di lievito è generalmente abbastanza evidente. L'odore può variare da lieve e leggermente più forte del normale, ma questo odore è in genere associato alla vulva piuttosto che alla stessa infezione del lievito. Molti medici suggeriscono che il dohking è uno dei più grandi nemici della zona vaginale. Una combinazione di acqua e sapone delicato viene spesso suggerita al posto della soluzione profumata all'aceto che viene fornita con il dohking. Al fine di trattare un'infezione del lievito con i farmaci prescritti, la donna deve prima essere esaminata da un medico. In generale, un medico di famiglia, un ginecologo o un medico della clinica sessuale possono eseguire tali esami. Durante il test, il medico raccoglierà la storia clinica e le registrazioni del paziente, eseguirà un esame pelvico di base e possibilmente avrà alcune colture e secrezioni vaginali inviate ad un laboratorio per l'analisi. La maggior parte delle infezioni da lievito sono in qualche modo semplici e facili da diagnosticare.